Il progetto Wellness Valley nasce dall'idea dell'imprenditore Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym, di creare in Romagna un vero e proprio laboratorio sulla qualità della vita, quindi un luogo nel quale mettere a punto dei programmi, dei progetti, delle iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone attraverso l'attività fisica, l'alimentazione e le relazioni sociali con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, di far vivere meglio le persone. È chiaro che in questo ambito la collaborazione tra il privato che ha la visione, che ha l'idea e il pubblico che ha gli strumenti per mettere in atto quest'idea è fondamentale. Il progetto viene promosso e coordinato da Wellness Foundation, che è la fondazione della famiglia Alessandri, ma lavora assieme a tutti gli stakeholder del territorio, dalle altre imprese ad altre associazioni, fondazioni, il mondo del sociale e soprattutto le istituzioni, i comuni, la regione Emilia Romagna, le province e tutte quelle realtà che hanno a cuore il miglioramento degli stili di vita delle persone e attraverso gli stili di vita il miglioramento della salute e della qualità della vita complessiva degli individui.